Le note di uno stupendo pianoforte Veseli Fabrique Wien del 1873, tornato a suonare a seguito di un minuzioso restauro, hanno impreziosito la serata di musica ed arte organizzata dalla Galleria Maritz in collaborazione con l'Associazione Culturale Pomodoro nella cornice di Piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare. Il soprano Sara Borrelli e il maestro Francesco Alessandrini all'organo e al pianoforte hanno proposto alla Folta Platea alcuni capolavori dei grandi compositori classici da Leoncavallo a Wagner, Damascagna, Puccini e Verdi. Una serata d'estate nella quale, come detto, si sono unite musica ed arte pittorica grazie all'esposizione delle opere di alcuni celebri maestri del Novecento.